Buongiorno a tutti, ciao, bentornati nella mia casina verde. Allora, oggi faccio questo video perché finalmente posso parlarvi con un pochino di calma, tra virgolette, dei miei nuovi progetti. Allora, intanto mi scuso se ultimamente non ho postato tanti video sul canale YouTube e non ho girato tanti tutorial semiserie, ma veramente sono stata piena di cose da fare, piena però di cose belle, quindi sono veramente veramente felice. Allora, prima di tutto a breve sarà pronto il mio sito, lì troverete tutte le informazioni sui miei corsi, sulle mie lezioni, sui miei workshop e sul percorso Strong Together. Allora, questo percorso è nato in palestra, ma ho scoperto che è bello ed è funzionale anche online. Attraverso questo percorso io riuscirò a seguire una persona frontalmente, facendole dei test di mobilità, di forza, di potenza e di resistenza e potrò insieme a quella persona lavorare per il raggiungimento dei suoi obiettivi. Ovviamente io mi occupo di pole dance, quindi non potrei fare la stessa cosa per un calciatore o per un surfista, lo faccio per chi è interessato a migliorare in questa disciplina che è la pole dance. Poi l'altra grande novità è questo pole summer special, questo evento online di pole dance e flessibilità che inizierà l'1 agosto e terminerà il 13 agosto. Ci saremo, ci saremo, saremo in sei trainers, tra questi sei ci sono anch'io e altri cinque nomi pazzeschi che non vedo l'ora di poter condividere con voi. E l'altra cosa bellissima è che per la prima volta nella mia vita sto girando un video dove parlo e sono in due pezzi, quindi con la mia pancina di fuori e per questo devo ringraziare le persone che in questi mesi mi hanno aiutata e sostenuta nella, come posso dire, nell'amarmi. Quindi il mio grazie principale va a Lavinia, che ovviamente conoscerete tutti perché tutti quanti siete iscritti al canale di Guglielmo Scilla e a tutte le altre pole dancer che in questi mesi di quarantena e dopo hanno condiviso i loro corpi, i loro contenuti aiutando secondo me ognuno di noi a capire quanto ci sia di bello dietro le nostre sicurezze. L'altra persona che voglio ringraziare si chiama Sharon, era in classe con me alle superiori e ultimamente vedo che sta lavorando tantissimo sul suo corpo, sul amor proprio, mi ha consigliato anche un paio di libri da leggere e insomma a queste persone devo dire grazie se io adesso sto facendo un video in due pezzi. Quindi che dire, vi ho detto tutto, un sacco di roba, il sito internet, il percorso strong together, il mio come dire, body positive e il pole summer special. Qui ho fatto tutto il riassunto di tutto, sono felice non vedo l'ora poi nel dettaglio. Se siete iscritti al mio canale, alla mia newsletter e mi seguite sui social vedrete che ci saranno un sacco di informazioni in ordine, vi giuro in ordine, che arriveranno. Ciao poleers, buona giornata!